devo dire che sono sono buoni ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente nel canale dell'italian guy canale nel quale troverete video di viaggi che è la mia principale passione e ricette di alimentazione chetogenica mi diverto a convertire ricette tradizionali in ricette chetogeniche qualora è possibile e devo dire che stavo sperimentando da un bel po questi gnocchi di zucca e devo dire che sono riuscito a trovare un risultato quasi accettabile insomma sono ancora un po attaccati c però almeno la consistenza mantiene quindi ecco si possono prendere con la forchetta e gustarli non mi dilungo oltre seguitemi nella preparazione del video della ricetta il video l'ho già preparato prendiamo la nostra zucca quella che ho utilizzato io pesa 2 kg e 74 facciamo 2 kg e 100 per essere precisi ovviamente voi potrete prendere la zucca che più le quantità di zucca che più sono consone alle vostre esigenze mettiamola in basso posizionale in basso nella teglia così dopo vi farò vedere come pulirla senza che ci facciamo male tagliandoci ecco qui l'ho messa in forno a 180 gradi per 45 minuti e come potete vedere lo sperino offre una certa resistenza perché mi piace sentire pezzi di zucca in bocca quando mastico lo gnocco ma voi ovviamente se volete che sia completamente cotta tenetela di più in forno 180 gradi per 45 minuti nel mio caso estraiamo i semi attenzione che la zucca è veramente molto calda rovente come potete vedere il vapore esce e i semi di zucca non li buttate fateli essiccare ci sono delle ricette carine in programma nel canale ve le farò vedere più in là sempre keto ovviamente estraiamo la polpa ecco e qui sto testando la consistenza come vi ho detto l'ho lasciata un po cruda non troppo cotta 1400 grammi mettiamo un piacere cominciamo a diciamo a mettere gli ingredienti che ci serviranno e ora è la volta dei 100 grammi di farina di semi di lino le metto in due parti quindi non vi sbagliate metto prima 150 grammi poi mischio un pochettino il tutto ecco aggiungo gli altri 50 grammi quindi in totale sono 100 di farina di semi di lino serve per dare consistenza per addensare poi la polpa della zucca in cottura altrimenti si scioglierebbe quindi misceliamo per bene e come dicevo le proporzioni sono qui variano ecco perché io ho utilizzato questa zucca perché mi ne ho fatti un po li ho congelati ovviamente voi potete utilizzare una zucca un po più piccola e lì in quel caso dove dovete mettere meno farina di semi di lino quindi non so se la zucca siamo partiti da 2 kg e 100 per arrivare a 1 kg e qualche cosa quindi potreste metterne 50 però poi di mente perché magari la zucca che utilizzate voi è diversa la varità da questa che sto utilizzando io fate un po di prove insomma gomma di xantano serve veramente 10 grammi sì però voi potete provare a non metterla mi farebbe piacere se me lo dite nei commenti serve a dare elasticità e compattezza agli impasti senza glutine quindi mancando la farina 00 ho preferito metterla insomma per dare un po più di consistenza all'impasto un tuorlo d'uovo ho evitato l'albume perché altrimenti l'impasto sarebbe diventato troppo liquido vanificando i nostri sforzi di addensarlo mischiamo facciamo assorbire l'uovo alla zucca e alla farina di semi di lino e ora formiamo i nostri gnocchi quindi mi sono aiutato col pollice e l'indice per fare i classichi tocchetti non possiamo stendere il salsicciotto e tagliarlo come si fa con la farina l'impasto tradizionale come vedete risulta ancora un pochettino attaccaticcio oppure il metodo dei due cucchiai ecco qui ho messo il video a velocità normale così vi faccio vedere come come faccio basta un po di pratica mettete il video in pausa posizionatevi così questi sono cucchiaini e sembrano cucchiai ma effettivamente quando ho comprato il set delle posate sono usciti questi cucchiai giganti cucchiaini giganti rispetto a quelli classici da caffè molto piccoli cottura aspettiamo quell'acqua bolle salate e facciamo scivolare gli gnocchi nella l'acqua bollente abbassate la fiamma e vi voglio dire che quelli che ho realizzato con il metodo di due cucchiaini sono risultati più sodi poi dopo ecco li vedete in basso a sinistra sono quei due che ho realizzato con il metodo di due cucchiaini e sì anche in alta durante la masticazione insomma sono risultati decisamente più sodi quindi potrebbe valerne la pena di utilizzare il metodo dei cucchiaini o due cucchiai e questo è tutto fatemi sapere come li condite ed eccoci qui ragazzi alla fine del video fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciuti se avete migliorie perché sto cercando ancora di renderli più sodi come i gnocchi tradizionali e sono indeciso sia aumentare la percentuale di la grammatura della farina della farina di semi di lino oppure mettere più gomma di xantano non ho ancora trovato insomma le giuste proporzioni per quella grammatura di zucca fatemi sapere nei commenti io cosa ne pensate e se avete dei suggerimenti per addensare insomma lo gnocco e renderlo quanto più possibile compatto e sodo insomma come quelli tradizionali alcune persone non usano la farina la classica farina 00 ma mettono la farina di la maizena l'amido di mais noi in cheto non utilizziamo quindi abbiamo bisogno di un altro addensante addensante io avevo inizialmente provato con la farina di bambù con la fibra scusatemi con la fibra di bambù però si sono sciolti miseramente se l'acqua si è tinta di arancione non ho trovato niente quando sono andato poi a cercare di vedere cosa c'era perché l'acqua era diventata arancione quindi non potevo vedere cosa c'era ho provato a tirarli fuori ma non ho tirato niente praticamente quindi sono sciolti miseramente fatemi sapere insomma magari provando con la farina di mandorle io non ho provato quindi si potrebbe mettere uova un uovo la farina di mandorle la gomma di xantano che come ho detto nel video serve a dare quella elasticità diciamo compattezza agli impasti senza glutine oppure aumentare insomma le proporzioni di farina di semi di lino avrei piacere se realizzaste questa ricetta con queste modifiche e me lo faceste sapere nei commenti questo è tutto avete idee suggerimenti per le prossime ricette fatemelo sapere nei commenti sono accorto è uno scherzo fatemi sapere quale ricetta volete che realizzassi e la mettono in lista un saluto dal vostro italian guy ciao a tutti